insieme a ripetente wharf 22 soldatino 1300 e pino hd metti il link del tuo canale in chat questa cosa raga salutate però stai zitto un bel like una bella schiccia per i nuovi che ci portate alla vittoria che ci lasciate un bel like che ci fa che ci fa che ci fa hello sponsorizzami manelito è davvero calmo a te scrivite raga scrivetevi da danielito 09 sei live che ci sto guardando vediamo se non è la matucci no raga chi è che fai bu raga quattro persone in live attenzione raga benvenuti se volete giocare con noi ma qualcuno è vero allo 3.000 quindi saluta non hai salutato la live non hai salutato è male di una cena non hai salutato è male di una cena più più sì però uno a terra terra raga ma soldati non parla non lo è stato nemmeno una volta uno uno di vita e ma è così fra ma parla soldatino scusate dovremmo però no no non 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 ma la salvatore tutto a posto non 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 ok ciao si si cosa non 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 raga spiagge non non andiamo tutto a spiagge vediamo tutto a posto ah ok bella mi piace tutto bene raga io in questa casa qua eh io la do nella prima prima un tattivo verde minchia devasto eh 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 chi ha salva il mondo fra di voi? io io comunque dammi retta se ora sei stato assente per un minuto devi giocare a forza se ti rimette già due o tre giorni a salva ma ti diventa tutta la voglia mmm se vi vivi vero testa di tutto eh che io che io dai i affari sono affari ma affari di cosa affari è io 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 ho trovato la voce di quando ah sei salva ehm salvatore raga più tardi andrò su salva eh sì 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 mi sembra ovvio siamo venuti a a spiaggia snob non lo so 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 lì ci dubiterei un po' toni come ti ricambio se ti va toni basta con sto messaggio è rotto minchiori ricambio sempre sempre con sto messaggio che mi arrivi in live complimenti 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 hai visto hai vinto il viaggio dai c'è veramente gente 89 se ci senti vai a curare a ripetendo io la fa una cosa importante raga sono morti tutti che pezzo di me da che ci sono giochi rifiutato sono arrivato per il vento ooo rifiutato da che ci sono giochi eh da che ci sono giochi io dalla io dalla fine della 2 voi io pure non è vero che sono nabbo ma stai zitto ti ho visto la sua salva non lo voglio io ero anche sulla salva al mondo ma sarò sempre più fatta di te ooo ooo po 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 no anche io dai c'è abbastanza forte andiamo ad andare a letto ciao bella buonanotte ciao buonanotte ciao bravo colpi colpi sniper colpi IR soldatino colpi sniper eh no ne ho pochi io fra ah ok fra bravo 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 aiuto raga non posso salire fra vieni in parte non posso salire non posso salire parla non lo so no no se sei felice tu lo sai batti piedi se sei felice tu lo sai vatti il pisalo ma è che sbatti sbattere la porta scusa dovrei fischiare apri la bocca è simile alla mia che ho fischiati in bocca perché sei il cesso cioè bisogna che la facoltà del cesso sembra la bocca è tipo apri la bocca e per te c'è la tavoletta del cesso ma chi vuoi prendere per il culo Nabbo si è già davanti basta insultarci la caccia di cane raga possiamo col tuo sniper ma rosa parla di cosa? Lorenzo attimo metti al massimo l'uomo ti ho ripetuto ti si sente bassissimo io? no meglio si se sei felice tu lo sai sbatti la mamma non lo stai sentendo? c'è le riti delle che fanno vabbè basta queste battute di merda vieni 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 al mio 3 salta al mio 3 salta 1 2 2 2 3 3 ma dà la direzione sbagliata se sei felice tu lo sai sbatti i piedi le donne linde se sei felice tu lo sai non è il suo sbattimento non è un po' che è giusto non è un valore la ragazza la voglio io non so non so se non è un po' che vuole questa frase bene, c'è gente, eh, quanto è direi da sottosone, se ci vuole che muore non scendo c'è fatto hashtag soldatino tutta la vita raga ne vorrei soltanto dirvelo dove è la safe è la legge del popo da sollevano spettacolo in alto Raga, l'ho capito, però, se c'è il tempo, mi sono andati a questo Raga, il lutto serva a me Ma la veloce del cavo tutto Raga, mi date colpi piccoli? Colpi pompa? Non mi sei presi tutti voi Ripeto Io ce l'ho 8, 62, 177, 32 Tu vuoi dimostrare un po' di quel finito in una cosa? Raga, quando ti viene col fatto con me E' io E' io E' io E' io prende l'ara 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 Raga, c'è squadra, vero? Raga, c'è squadra, vero? Siamo ampressissimi Il primo che sale, il primo che sale Il primo che sale Eccola là, brazo grigio, di nulla, fra chiamami se mi vuoi ancora come guidatore, no, il tronco beccato, sopra, dai fai lui qua, sì, veloce, vieni, subito stanno, madonna, ma puoi stare zitto suo fratello, madonna, sì, no, scusate, 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 scusate Eccola all'ah. Eccola all'ah. Eccola all'ah. Eccola all'ah. Buonissima, dammi. Buon paura. Sottotitoli! 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 La... Dai, chi va? Sottotitoli! 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 Eh no, porco Dio! Però non mi spara! Sottotitoli! Non c'è questo con due kill! Sottotitoli! 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 Sottostitoli! Sottotitoli! 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 Carolo! Sottotitoli! vado in lamborghini hai impiegato la sua ragazza no era l'altra che hai due ragazze sì no non ci vuole no 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 è entrato lorenzo signori lorenzo signori bella bellarone lascia like e iscriviti hai già scritto tutto vabbè lascia la canale e gg a lascia m no larga bordo perché xd ma lascia visto Non fai piangere nemmeno mia nonna quando quando gli è morto lo zio no vabbè ho messo manni raga 28 luglio come non puoi giocare fino al 28 luglio che succede se voli si trattata rubano tutto che è successo che è successo questa cosa non puoi giocare per due mesi fumo e mi bevo lamborghini perché sono giudizia che succede se voli un'azionismo è morto che succede se voli perché sono giudizia che era sicuramente No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sei una puledra Sei una puledra Puledra No, sei rifarlo però non lo mandare No Fammi risentire l'audio Senti 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 Eh? Mi vede lo so che angeli per finta Cioè gli occhi Anche quando c'ha voglia Si fa la crema degli occhi Basta il piano Mi senti la voce Senti 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 Mi piace la cola cola La cola Mi piace la cola cola con la cannuccia corta corta Cioè detto caro mio agli email usato un certo gioco e non sapevi del bug e si sentivo lo stesso hai detto questo truffiamolo appena ti dico faccio questo verso lui spelli ma che pensi sono andato ieri ma per favore va ragazzi non ascoltate è lui che ha provato a truffare me e poi non le ha truffa la seconda volta ma non sa come funziona sarà il mondo quindi l'ho scoperto ma va va no c'è l'occhio giusto bravo difendi Loren ma dove state? non mi racconta ma ragazzi non scoperto ma ragazzi non scoperto scoperto quella lì era per vedere se truffavi cazzo c'ho anche un canale però io non truffo era per vedere se truffavi mi sembrava un po' strano ero entrato e subito mi dicevi sei scambi scambi dopo che ti avevo regalato quindi volevo vedere se mi truffavi mi avevi dato un lancia un piccolo infanto di babbontale che doveva essere al 130 me l'hai dato al 71 mi ha detto ehi frate cambiamo io avevo fatto avevo deciso lei mi dobbiamo scambiare io li volevo scambiare onesto e mi ha mutato in chat gioco no no Pino senti mi ha mutato in chat gioco e lui sapeva che in chat gioco anche se mi muti io lo sento e lui ha detto ehi fra questo truffiamolo e allora appena ti faccio questo verso espellilo e io ho detto fra ma ti ho sentito imbecille ma zitta che tua madre fa le pompe agli alfanti ahahah i dissing non mi ha detto non mi ha detto non mi ha detto non mi ha detto partono i dissing allora ora ha fatto Lorenzo vai parte Giuseppe il truffatore vai parla il truffatore vai inizia il dissing perché sei un boccino ma sto zitto preso io e Pino abbiamo una cosa in comune ragazzi io e Pino abbiamo una cosa in... io e te Pino abbiamo una cosa in comune indovina cosa 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 la grassità grazie no ho detto ce l'ho anche io eh invece è ora non sono chissà grasso dai raga voglio dissing in live no 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 guarda tra dissing tra Giuseppe e Lorenzo mi hanno chiuso a smiferare 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 i bimbi Nutella con l'arco bimbo Nutella raga zvegno barabim barabam si sentiamo quasi versolambo le sali raga ecco stavio ci sta seguendo ha preso il volo ha preso il volo raga minchia figa il volo ho capito mi sparo andavo avanti e dietro no no ne ha atterrato uno no soldatino dove cazzo siete voi due raga uno è trattato raga stanno solo uno allora lo restano i compagni raga attenti ora muori tanto ora muori dietro di te che cazzo mi hanno arrestato l'amico che stronzi attento vietro grande frate sotto un team veloce le nostre schede 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 fra 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 non curare lui pensa le schede schede ecco la mia è qua ecco le mie presi resta non mi starebbe a guardare gigi te faccio a curare no lasciala a noi il loot che sto un amo con una pistolina prendo male questo porco hai capito ti sei preso tutte le munizioni perché ti posso al culo però lasciatemi qualcosa raga colpi a r colpi piccoli colpi pompa e colpi questi lì colpi qua oh soldatino colpi pompa colpi piccoli colpi r colpi r ok colpi r 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 uno scuso ho capito vabbè lo dico scusa ora voglio giocare con un uomo no mando va ma insente se vuoi possiamo guardare domani o dopo domani ok Ale con che scusa no vabbè vabbè accetto le scritte seguono madonna ti ha seguito un team porca di quella porca di quella di vita e vabbè e vabbè e vabbè e vabbè andiamo su salva basta basta voi ce l'avete salva? no noi nemmeno compratelo compratelo ora non lo so pinno andiamo su salva pinno andiamo su salva si giusto giusto mi sa che è anche proprio abbandonato andiamo su salva andiamo su salva si si il mondo su salva il mondo non lo so 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 un applauso per alle un grande applauso per alle basta sembra un coglione basta oppure quello che sono pinno e vabbè e vabbè e vabbè non lo so non lo so si fammi lì comunque in questi giorni non lo so non lo so fra ma a te se mi pensi a sei ma partiti un po' su cioè non lo so come dirti fafarafaffa allora questo fatto aspettate non c'ho da modificare dei superstiti che io ora so come funzionano le squadre superstiti fino a un momento anzi faccio una cosa ma 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 si ma 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 Aspetta, ma se cambiano ora? Sì, vabbè, comunque ora vado su di noi. Sì, vabbè, vabbè, vabbè. Sì, vabbè, vabbè. Sì, 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 vabbè. 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 Faccio un party in community fisico. Va bene? Ce l'hai? No. Non distaccare gli dolori. Di cosa? Di cosa? Di dolori. 12 stack. Me ne puoi regalare uno? No, 173. Faccio un party in community. Sì. Va bene? Sì. 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 mi chiamo alessandro ma su play su fortnite così invito a assegno il coro non ci sono si sono un po' ma non ci sono ma non non fra entra nel party invitami no t'ho invitato non è vero si si ora ti invito ux fammi vedere se mi fa entra nel party signor pinocchi addio ti invito vai se ti trovo e ti invito a vero perchè ti dà vita nel party però certo so perchè ti dà vita nel party ora party invita un buon marone invita ora buongiorno 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 ta ci sei scambi non so scritto dunque è il primo a perdere grazie non so che cazzo sto la violanda che non parla nemmeno però comunque non ti so più tutti gli amici ah ecco qui se vai nella descrizione di qualche video e se hai il telegram non so che il mio mio video però che io voglio costruire un lama che sa costruire un lama io ti sento ancora fare cavalcaponi il mio video il mio video il mio video mi permessi di aiuto bellino lui il mio video 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 l'interno è ancora più molto amphibיז il mio video il mio video il mio video è un po' sul popolare è che mi rimane il mio video è che i miei video sono tibissimi i miei video sono tibissimi il mio video molto mappa in qualche modo per un posto al coro il film è vero non vabbè vabbè ma c'è salire per me super mega cagate in arrivo minchia che cagata eh minchia sei a quell'occhio un po' pazziazia fa un po' schifo si andava cagata che ha fatto il suo cavallo si si la faccio va bene ti sei io? si si l'agia ok è finito vanno o luoglio guarda fra quando tu so forte no 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 è morto l'hanno ferito e ragazzi guardate è tipo il saluto della principessa la regina d'inghilterra dentro al buco del cuore no se c'era il ballo quello e ragazzi guardate come ballo bene dal buco del culo di un uomo mi dirà speciale non potenziata va dentro un attimo non potenzi 9 cosa no che cazzo ti ho fatto ma che cazzo dici fra non ti voglio guarda cazzo c'è la struttura guarda veramente c'è la struttura qui fra guarda no veramente sto qua guarda vedi dai fra vieni mi sono fatta balliamo balliamo oh guarda come saluto dal buco del culo finno il mare è la valla è la proposta pubblica con lui mi farà uccidire dal buco del culo il culo il culo il culo il culo il culo il culo regoliamo il culo il culo è il culo guadagnacol della febbra 0 sort No No Come? Gli avete fatto il buio nel culo Come cazzo fa a cagare? Come fa a cagare ora? Muovetevi C'è la riserva naturale là dentro, muovetevi Sevi dammi i permessi di prendere Sì, mi dai permessi No, gli ho toppato il buco del culo Ma ora non me lo impie Gli ho toppato il buco del culo Adesso inviti qualche truffatore Eh, ho fatto il party Io non ho avvisato il fosore Guarda come spara veloce Questo su battaglia Royal Sai che male farebbe, guarda qui Sì Sì, sto guardando Guarda Non c'è il bianco Non c'è il bianco Non c'è il bianco Non c'è il bianco No, ecco No, raga Il canone è mondizia Sì, c'erano due Tre pistelli dentro Tre Tre Quello legacy Cazzo legacy qui Si è sparato molto molto Raga, è nato il bambino Grazie E' al 58 scarico E' al 58 scarico Divertiti Oppure questo Aspetta che io lo fico dentro Levati, 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 levati Iiii Utopia Pikachu Ti amo con Oh Strozo Ti inculo con il verde Potere di Pikachu Raga Io non ho fatto un regalo Vado 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 Direi che E' finita qua Il nostro bellissimo spettacolo Vado